Amici Trevi Meteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di sabato che vedrà alcuni sistemi nuvolosi dall'Atlantico avvicinarsi alle regioni di nord ovest quindi finalmente la situazione tende a cambiare dalle nostre parti controlliamo anche la nuvolosità prevista sul nostro paese nubi in aumento dicevamo sulle regioni nord occidentali e a fine giornata nuvolosità si estenderà a tutto il nord e anche al medio alto tirreno e torneranno anche delle piogge precipitazioni che arriveranno nella seconda parte del giorno anzi per essere più precisi bisognerà aspettare il tardo pomeriggio e la sera per le prime piogge sulle regioni di nord ovest e poi vi anticipo domenica giornata di maltempo al centro nord quindi in definitiva per questo sabato prevediamo l'arrivo di nuove piogge tra Piemonte, Val d'Aosta, Lombardia e Liguria tra il tardo pomeriggio e la sera torna anche qualche fiocco di neve sulle Alpi ma domenica sarà la vera giornata di maltempo